eccomi qua ancora per informazione respiro e respira anche la nostra pia che per vostra informazione è alla casa sacra famiglia in una bella stanzetta da sola e ci guarda e alle volte si complimenta e dice che siamo anche bravi sarà comunque io non mi sono mai visto per vostra informazione tutti mi domandano al visdotto no non mi sono mai visto però natale è vicino e allora a natale insomma si fanno tanti pensieri e il pensiero più bello è quando si incontra una mamma con una carrozzina io di solito quando incontro la mamma con una carrozzina naturalmente persone che conosco ma alle volte anche non conosco guardo questa carrozzina con molto piacere e ci si pone una domanda è un maschio è una femmina come si chiama quanti anni ha sono domande trite e ricrite che si fanno normalmente a un bambino e la mamma alle volte che cosa fa abbassa anche la coperta perché si veda meglio la faccia di questo bambino mi stanno dicendo che metto sempre la mano davanti quindi sarà meglio che la mamma la tegna zo galas tranquillo che la mano sta giù e dicevo che la mamma abbassa questa copertina per far vedere meglio il viso del bambino e naturalmente quando si vedono così piccoli i bambini sono tutti uguali però non sono uguali per la mamma che l'ha procreato e nella mente di chi guarda questo bambino specialmente nella mia mente prevale un pensiero un pensiero la vita la continua se si ragiona tecnicamente si dice è la prosecuzione della specie ma se si vede da un altro occhio è l'immortalità e l'immortalità cancella il concetto di fine che la fine alle volte rattrista e non dà speranza quando però questi incontri avvengono nel tempo di natale e insomma si è più teneri ci si intenerisce e il pensiero le volte cambia diventa più dolce più romantico più sentimentale anche religioso anche religioso per chi ha fede specialmente è religioso perché è religioso perché è nato tanti anni fa un bambino speciale come era questo bambino in una stalla con la paglia con le mucche in un ambiente semplice semplice e poi ancora semplice era divino era sovrumano era perfetto era celestiale e ci ha trasmesso molti sentimenti particolari ci ha trasmesso l'affetto ci ha trasmesso alla benevolenza ci ha trasmesso il fervore la tenerezza ma ha trasmesso soprattutto una cosa molto importante amore si tanto amore a un amore un amore infinito lo ripeto tanto amore ed esclamo con grande gioia che fortuna che è nato Gesù pensate se non fosse nato non ci fosse stato quell'uomo che tristezza e allora concludo con l'augurio e dico insieme a voi che fortuna che è nato Gesù